Evasione fiscale per oltre 1,9 milioni di euro da parte di due associazioni culturali tarantine per illecito utilizzo di apparecchi e congenni da divertimento in grado di corrispondere ai giocatori vinciti in denaro e il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli effettuati sull'intero territorio provinciale hanno portato all'individuazione al sequestro di 31 apparecchi da divertimento e intrattenimento non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla segnalazione alle autorità competenti di tre persone. Dopo aver ricostruito il volume complessivo delle giocate e quantificato in oltre 8 milioni di euro la base imponibile sottratta a tassazione, gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Taranto hanno constatato l'evasione del prelevo unico e irareale per un importo di quasi 2 milioni di euro segnalando alla competente autorità amministrative rappresentanti legali delle due associazioni ispezionate. Il prelevo unico e irareale è un tributo che grava sui titolari delle apparecchie dei congeni da divertimento ed è commisurato le somme giocate registrate sui relativi contatori. I controlli dei finanzieri proseguono senza sosta al fine di prevenire e reprimere ogni forma di legalità di abusivismo nel settore dei giochi compresi quelli online.